salve a tutti ci troviamo qui per cercare di capire qual è la differenza esistente tra un direi analogico e un direi digitale ovvero sia è meglio una macchina analogica che costa tanto e funziona in un certo modo o è meglio un digitale che funziona sicuramente in maniera diversa ma che costa altrettanto sicuramente molto molto meno per fare questa prova abbiamo riunito in maniere non del tutto legali una serie di apparecchiature sono sette in tutto una serie di apparecchiature che coprono più o meno tutto il panorama del desiderabile dal punto di vista chitarristico più o meno ripeto perché poi in realtà la perversione individuale non c'è il limite quindi probabilmente ci siamo dimenticati più di un'apparecchiatura fondamentale ma all'interno di questa panoramica abbiamo macchine full analog macchine digitali che fanno finta di essere analogiche macchine digitali che sono orgogliose di essere veramente digitali per cui allacciate le cinture di sicurezza stappatevi le orecchie e prendete una decisione il primo oggetto che abbiamo a disposizione è lo space eco r20 della boss che è la rimodellazione digitale della veneranda camera eco a nastro prodotta da roland a cavallo degli anni 70 inizio anni 80 è un oggetto della serie twin pedal quindi abbastanza corposo come impegno anche fisico che riproduce il comportamento del sistema a nastro con testine selezionabili e comportamenti di riverbero sommabile alla normale ribattuta a differenza del sistema originale che era mono in questo caso noi abbiamo delle connessioni stereo in stereo out che possono essere utilizzate ad esempio su una linea effetti del mixer ma che possono essere poi convogliate in mono in mono out ad esempio per lavorare con la chitarra e sempre a differenza col sistema originale si può raddoppiare il tempo di ritardo giungendo ai fatidici 6 secondi di delay time ci occuperemo poi di danico uno dei pedali storici della linea da elettro purtroppo non più in produzione ma ampiamente reperibile sul mercato dell'usato che unisce a questo look molto 50 un cuore assolutamente digitale in grado però di simulare i comportamenti analogici questo interruttore low eye ci fa capire che sarà possibile fare qualche gioco particolare sui tempi di ritardo e conseguentemente sulla risposta in frequenza passante tipico comportamento analogico è una macchina di un certo tipo per cui le connessioni sono limitate a un ingresso e un'uscita ci occuperemo poi del digitale più economico che esista questo è il digital delay dd 400 behringer che fa finta di essere analogico nel senso di alcuni suoi comportamenti ma in realtà è full digital al suo interno e riesce a raggiungere i 1300 millisecondi di delay time quindi quasi un secondo e mezzo controllabili con semplicità e in estrema diciamo così economia di mezzi da un punto di vista di pedigree questo pedale ha diciamo così delle nobili ascendenze in quanto è stato progettato da dave cocker l'uomo che ha concepito il vcs 3 e il sinti hs quindi il massimo della nobiltà analogica ciò non toglie che questo aggeggio che è il memory man azarei prodotto da elettro harmonics è un pedale completamente digitale talmente digitale che è in grado di realizzare eco multi tap reverse delay luppatore eccetera per la gioia degli utenti è una macchina molto versatile che ovviamente preme fino in fondo sull'acceleratore della sua natura digitale stereo in stereo out con una serie di gadget gli azarai appunto che portano effettivamente molto avanti le sue funzionalità sempre dal catalogo elettro harmonics abbiamo poi a disposizione un memory boy che è la versione più piccina del memory man quindi scalata nei tempi di ritardo e nella dotazione dei controlli real analog questa volta quindi sistema di generazione bbd a catena di secchi tanto per capirci che può essere utilizzato per realizzare linee di ritardo vibrato chorus sfruttando delle modulazioni corte predisposte con queste due forme d'onda è versatile e ovviamente vista la sua natura analogica ci riserverà delle piacevoli sorprese questo aggeggio che è il mugger fugger mf 104 z non ha bisogno di presentazioni è probabilmente l'analog delay più blasonato di questo periodo non solo perché è firmato allo bob mug ma perché è ottenuto utilizzando la vecchia componentistica bbd che oggi comincia a essere irreperibile al suo interno è quindi possibile realizzare delle linee di ritardo che vanno da 0 a 500 millisecondi o in modalità long da 0 a un secondo abbondante e come vedremo ci sono tutti i pregi ma anche tutti i difetti dell'antico mondo analogico la sua dotazione di connessioni è molto generosa perché la natura dei mugger fugger grazie a bob mug è quella di poter essere interpretati tanto come pedali per chitarra quanto come effettivamente moduli di un sistema di sintesi non poteva mancare nella nostra panoramica un digitale vero questo è un vecchio lexicon pcm 80 che all'epoca garantisco mi è costato un braccio una gamba e tutti i capelli che non ho più che è in grado di realizzare due secondi e mezzo di delay ma non solo anche riverberi anche trattamenti di parecchio prestigio digitale con il classico suono lexicon anni 90 inutile dire che la tecnologia è andata molto avanti per cui la sua natura digitale che è concentrata nel periodo storico degli anni 90 oggi può far sorridere l'utenza più smaliziata ma garantisco all'epoca oltre a indebitarsi questo aggeggio era anche una sorta di status symbol grazie a tutti